Beppe Grillo è il direttorio dei Cinque Stelle sul palco Anettuno, il mea culpa di Luigi Di Maio che ammette sull'indagine a carico dell'assessore all'ambiente del comune di Roma Paolo Amuraro ha commesso un errore, ha sottovalutato. Il vicepresidente della Camera pensava, spiega lo stesso Di Maio, che si trattasse di un'inchiesta nata dalle denunce presentate contro l'Amuraro dall'ex amministratore delegato dell'azienda dei rifiuti. Per questo Di Maio è informato dell'indagine, anche via mail non ne parlò con il resto del direttorio. Intanto oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha sentito Beppe Grillo, poi ha pubblicato un videomessaggio su Facebook Vogliamo prima leggere le carte della Procura? Non saranno i giornali o i partiti a decidere se ci sono ipotesi di reato? Non ci fermeremo, aggiunge io le spalle larghe.